Anche San Nicolarcella potrebbe avere il suo porticciolo nella Baia del Carpino. Prematuro dire che lo avrà per certo. Ci troviamo infatti in una fase embrionale del progetto. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbara Mele infatti ha lanciato una manifestazione di interesse diretta agli operatori economici per la presentazione di proposte da parte loro per sondare la fattibilità dell'idea. I commercianti e le aziende, secondo quanto scritto dall'avviso pubblicato sull'albopretorio online dell'ente, dovranno infatti presentare entro due mesi dalla divulgazione all'area tecnica del comune idee progettuali che dovranno garantire vantaggi per la cittadinanza, concorrenza tra operatori economici e massima trasparenza dell'azione amministrativa. La volontà è dunque quella di aprire un confronto e un dibattito tra le diverse realtà che gravitano sul San Nicolarcella. La proposta progettuale dell'approdo turistico Peschereccio dovrà rispettare alcuni criteri. Il porticciolo di seconda categoria terza classe potrà contenere indicativamente tra le 400 e le 800 barche per la nautica da di porto, la pesca, il transito, sia per le imbarcazioni di lunghezza inferiore 10 metri, sia per quelle di meno di 24 metri. L'idea dovrà tenere conto anche di tutte le attrezzature necessarie all'assistenza e rifornimento, carburante, acqua potabile e generi alimentari. Oltre al progetto preliminare, la proposta dovrà essere correlata da una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario preciso e infine l'analisi specifica delle caratteristiche del servizio e della gestione. Entro tre mesi dal termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il comune di San Nicola Arcella sceglierà la proposta migliore che potrà essere inserita all'interno della programmazione triennale delle opere pubbliche. Anche San Nicola Arcella dunque entra nel novero dei comuni che vorrebbero realizzare un porto antistante alle proprie acque. Un'idea che stuzzica anche per gli interessi e le ricadute economiche che ne scaturirebbero e che si spera, nel caso venga portata avanti, che non faccia la fine di altre strutture portuali finanziate e mai finite. Esempi sulla riviera dei Cedri non ne mancano. Vedi Diamante che dopo anni non è ancora riuscito a tagliare il nastro del suo porto turistico e che a vederlo sembra molto lontano dalla sua apertura. Sembra infatti esser finito nell'oblio, per non parlare di scalea. Il porto di Torre Talao, presentato in pompa magna alla popolazione dell'alto di Reno Cosentino dall'allora governatore Scopelliti, non ha mai visto nemmeno la posa di una pietra. Anche per San Nicolarcella dunque potrebbe non essere facile e qualora si decidesse di realizzarlo non avrà di certo bisogno di gelosie, di confine o sgambetti, che già la burocrazia ne fa a sufficienza, ma di supporto e ognone di intenti.